Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Ligo e oggi siamo qui per un nuovissimo episodio della Minecraft Tech It Ita Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto le prime due fonti di corrente, cioè la prima fonte di corrente e il primo macchinario Oggi, sono passati due giorni da quando ho caricato il video e siamo già a dieci mi piace, quindi ho deciso di registrare già un nuovo episodio Allora, che cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo a fare, innanzitutto, ho deciso, vabbè, facciamo qualcosa di diverso E quindi andiamo a fare una Iron Furnay, cioè una Iron Chest, che praticamente è un, vabbè, la chest di Iron Per farla ci serve una chest di Copper e poi l'upgrade dal Copper all'Iron che si fa in questa maniera qua Non si trova nell'Anei, non so perché, sono andato cercando su internet come si craftava ed eccola qui Questa chest, vabbè, la si può mettere qua, che azz' se ne frega, la metto qua Quindi metto giù una chest di Copper che si crafta praticamente con pezzi di Copper messi a chest E adesso andiamo a toccarla e come possiamo vedere viene una chest molto bella Quindi, vabbè, ci butto dentro un po' di roba Allora, come potete vedere dal mio inventario, sono sceso in caverna e ho trovato sei diamanti Con tre di quei diamanti mi sono fatto un piccone Allora, la caverna è laggiù Nel prossimo episodio sicuramente andrò in caverna Quindi andremo in caverna per un episodio Oggi cosa facciamo? Vabbè, a parte aver fatto questa cosa qui che ha anche buggato, ma chi se ne fotte Andremo nel Nether Andremo nel Nether come suggerimento di un nostro iscritto Adesso metterò il suo commento in atto Che mi ha detto di fare la Transmutation Table Che praticamente serve per, vabbè, trasmutare gli oggetti tramite del MC Cioè, noi trasmutiamo magari anche della semplice ghiaia La facciamo diventare, faccio caso, faccio conto, un diamante Però ce ne vogliono tanti Però, vabbè, noi ci arriveremo Adesso ho preso un pezzo di selce Per farmi l'acciarino E, vabbè, il portale lo andiamo a costruire fuori di casa Perché non voglio avere il puzza di portale qua vicino a casa Dovrei averlo messo qua al ferro Esatto Quindi, accendino si fa Diventico sempre che in questa versione non si può fare a minchia Quindi, prendiamo la nostra ossidiana che avevo anche ricavato grazie al piccone di ossidiana E io direi che lo facciamo qua Ma sì, lo facciamo qua Allora, io vado a risparmi sulla cob Cioè, sull'ossidiana Quindi, lo facciamo in questa maniera qua Perché poi 4 di ossidiana ci serviranno per fare La philosopher's stone Che ci servirà per fare la transmutation table Quindi, proprio sono andato Diciamo Ho contato i pezzi da prendere Poi, intanto, la caverna è giù E quando mi servirà l'altra ossidiana Dovrò scendere a prenderla io Quindi Bello Perché non va il portale? Perché non va il portale? Si fa così il portale? No, non dirmi che devo farlo No, no, aspettate Questo è un fail della madonna Perché non va il portale? Why? Perché? È fatto così un portale del nede? Oh mio Dio No, non ci credo Come cazzo si fa il portale adesso? No, il bug? No, no Allora Non mi pigliare per il culo, eh? Cioè, se mo devo usare 18 pezzi di ossidiana Che avevo che contati per fare un cazzo di portale Mi incazzo, eh? No, eh Non va Non va Perché non va? Why? Vabbè ragazzi Vi dico una cosa Per sto portale qua Scusate Vado Cioè Non mi si accende Avete visto anche voi che non mi si accende Vado un attimo In cheat mod Cioè Intanto L'avrei fatto Scrivo Nether Non c'è neanche il portale Non c'è neanche il portale In questi cazzo di too many items non ci sono Ah no, eccoli qua Portal E dobbiamo fare così ragazzi Cosa vi devo dire Mettiamo qua Qua Vabbè Mettiamo Andiamo qua Poi intanto Sti pezzi di portale Qua li butto via Vediamo Entering in Nether Mi fa entrare adesso Nel Nether Sì Grazie mille Cioè No Era altro troppo Era altro troppo il portale L'ho fatto altro troppo Vabbè Allora Ci rimettiamo subito In modalità Utility E allora Adesso Dopo questa Failata Della madonna A noi serve La glowstone Quindi Andiamo su Tramite questo Pillar del cazzo A prendere Della glowstone Poi qua Del nether Ragazzi Ho già in mente Una fonte Di Energia Tramite dei geothermal Praticamente Dovremmo ossorbire Tramite Un macchinario La lava Che poi Messa in un geothermal Generator Cioè Ci diventa Corrente Ed è molto più Semplice Vabbè Ma queste qua Sono robe Che faremo in futuro Quando avremo già Una grande fonte Di corrente Che sicuramente Non sarà Il generatore Nel mar Adesso Distruggiamo Tutto questo Bel pezzettone Di glowstone Andiamo giù A raccattare i pezzettini Che ci sono E ce le ritorniamo Subito nel nostro Overworld Che è così Facciamo subito Questa Transmutation Table Che così Faccio vedere Anche un po' Come funziona Poi ovviamente Inizieremo a fare Molti altri impianti Sicuramente Con questa cosa Qui Della Transmutation Table Con questo Ragionamento Qua Della MC Perché Praticamente Nella Techit Si possono Fare Altre cose Con L'MC Adesso non so Che cazzo è Sta roba Nether Iron Iron Perché sento Tipo dei pigmen Incazzati Cazzo Non è che Mi attaccano Perché gli rubo La roba Nel nether Boh Io gli fotto Tutto Cazzo 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 Oh Merda Perché Ma Ma si può Cazzo Era uno scherzo Mio dio Sto Oddio Se morivo Nel nether Quante bestie Mi tiravo Cazzo 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 Dio Che non siete Incazzati Non sono Incazzati Ok Quindi ce ne Torniamo a casa E Ci craftiamo Adesso Tutte le robe Che ci servono Intanto qua Il nostro portale Nel marra così A vita Perché non si vuole Accendere Ah ovvio Io l'ho fatto Altro uno In più Sistemiamolo Dai Sistemiamolo Intanto Non ci abbiamo Un cazzo Da fare Sistemiamo Sto portale Cioè Ma si può Che io Devo sempre Sputtanare Sto tempo Qui per Una merda Di portale Del nether Cazzo Lasciamo stare Va Perché sono Abituato Adesso A farlo Con la 1.8 Che la puoi fare Anche 16x16 Portale Cazzo Se ne frega Delle Dimensioni Dimensioni Non contano Ricordatevi Ragazzi Ossidiana Non andare Nel nether Ossidiana Non andare Nel nether Allora Questo qua Lo chiamerò L'episodio Del fail Perché Questo qua È proprio Un fail Della madonna Ecco Ecco Adesso Perché Non vai Perché Vabbè Ragazzi Faccio Così Che cazzo Me ne frega Posso fare Semplicemente Così Poi Mi metto Un attimo In creative Non datemi Del cittone Perché state Vedendo Anche voi Quel cazzo Che sta Succedendo Sta succedendo Proprio La merda Più totale Sta succedendo La merda Quindi Adesso Non mi si accende Ma perché È ovvio Scrivo Portal Poi Mi give Un peso Di portale E Il nostro portale Del nether Rimarrà così A vita Vabbè Cazzo Se ne frega L'importante È che ce l'abbiamo Il portale Via sto pezzo Via sto pezzo Guardate È anche artistica È una roba Bellissima Ecco Questo è il nostro Portale del nether Ora Via sta merda Via dalla creative Via dalla cheat Mod E possiamo tornare A rifare il nostro Incredibile Episodio Quindi Ora Andiamo Dopo Sti vari fail Qua del nether Ma chi cazzo Se ne frega Intanto andiamo a dormire E poi facciamo La transmutation table Finalmente Finalmente Perché la gente Non ce la faceva più Sentire io Che dicevo Cagate Quindi intanto So che mi serve La stone Quindi la metto a cuocere Come potete vedere È anche abbastanza veloce Come fornace Quindi mettiamoci A dormire E come Come potete vedere Qua brucia un po' di carbone Ma intanto ne ho trovato Tanta Tanto Tanto Quindi Andiamo A cercare la Transmutation table Ovviamente devo cercare Table Perché Transmutation Non me lo cerca Allora Ci servono Intanto la Philosopher's Stone Che andiamo a craftare Quindi È molto facile Da craftare C'ho anche tutto Quindi Il diamante Al centro Poi c'è la Redstone Di qua E La glowstone Ai lati Quindi È Facilissima Da craftare La Philosopher's Stone Quindi Craftata La Philosopher's Stone Noi Andiamo Facilissimo Vabbè Ci servono Perché c'ho ancora Dei pezzi di portale Qua Vabbè Me li tengo Cazzo Me ne frega Intanto poi Magari si chiude ancora Il portale Ovviamente Io che cosa ho fatto Mi sono tolto I pezzi di ossidiana Mi sono tolto I pezzi di ossidiana Che mi servivano Ovviamente Quindi devo andare Giù in caverna A prenderle Quindi vado giù In caverna A prendere Questi cazzo Di portali C'è Questi pezzi Di ossidiana E ci rivediamo qua Ok eccoci ragazzi Sto tornando Su dalla caverna Ho preso Sette pezzi Di ossidiana E adesso Finalmente Possiamo fare Quello che Dobbiamo fare Durante tutto l'episodio Ovvero Andare A craftare La Transmutation Table Quindi ci abbiamo Tutto Ci abbiamo Tutto Perché Ci sono Le torce Nella crafting Perché poi ci rimangono Nella crafting Torce Buggate Nella crafting Table Va bene Allora Quindi Mi rivado a cercare Il crafting Nella transmutation Table Ok 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 Quindi Ossidiana ai lati La stone La mettiamo qua E la philosopher stone Qua Transmutation Table Fatta Ah giusto Si perché Non si sputtana Ancora lì La mettiamo qui La transmutation Table E finalmente Possiamo Cioè possiamo Fare quello Che dobbiamo fare Quindi Vi spiego In breve La transmutation Table Ogni cosa Che noi metteremo A sinistra La transmutation Table Ce la imparerà Quindi io In questo caso Gli ho fatto imparare I diamanti Quindi se adesso E metto qua un diamante Il diamante È appreso Io adesso Gli faccio Apprendere un po' Di tutto Quindi la redstone La carne Anche se ce l'abbiamo Però è sempre meglio Fargliela imparare Poi gli facciamo imparare Il vetro No Si il vetro Me l'ho fatto imparare Perfetto Cioè tutte le cose Che sappiamo Che finiranno Magari E quindi Niente Gliele facciamo imparare In modo da Non scoddarcele Ma intanto Questa cosa qua Va a pagina E quindi è anche Molto molto utile Allora Quindi Vi spiego Queste qua Sono le MC Le MC Praticamente Producono Un effetto Praticamente Questa Bistecca qua Ha 64 di MC E il vetro È uno di MC Quindi noi con una bistecca Se la brucio Possiamo prenderci Una stack di vetro In teoria Quindi ci prendiamo Una stack di vetro Perché La MC È stata colmata È come pagare Un euro Vabbè Avete capito Come Come Procede E quindi È molto molto utile Mentre Per ora Quello che ci costa di più Vabbè È il diamante Perché Costa 8192 Però Faccio il caso Adesso Per prendere un diamante Intanto poi Mi vado in caverna A bruciare Brucio questo Mi piglio Un diamante E poi Mi piglio Bistecche Mi piglio Tante bistecche Voilà Mi piglio O 22 bistecche E tutto È molto utile Perché adesso Noi Abbiamo le cose Infinite In poche parole Dovremmo avere MC da bruciare Noi possiamo anche Bruciare Tutta la cobblestone Tutta la merda Che ce l'abbiamo Tipo brucio Brucio la nederach Che ce la impara Comunque brucio La gravel Brucio La cobblestone La stone No Però la stone Gliela faccio imparare Perché mi serve L'ossidiana Idem Quindi Adesso Io brucio Ad esempio Niente Brucio questo Il basalto E mi ripiglio Altra ossidiana Nulla di più facile È molto molto facile Da capire Cioè A meno per me È facile da capire Un po' magari Comunque È molto Cioè È molto facile Come Come metodo E però È anche molto utile È anche Molto molto utile Quindi Grazie A Aspettate Che vado A cercare Il nome Del commento Del giorno Cioè Del veloce Del nostro iscritto Che ce l'ha Consigliato Grazie a te Che sei De Mr.Fail Grazie a te Per avermi consigliato Di fare la Transmutation Table L'avrei fatta Ma te me l'hai consigliato E quindi sei Un genio Perché adesso Praticamente La nostra serie È un po' Avvantaggiata Diciamo Quindi Grazie a tutti voi Per i mi piace Che avete Dato Allo scorso episodio Sono stato Molto soddisfatto Perché Ho capito Che questa serie Vi piace Per il prossimo episodio Arriviamo A 6 mi piace Commentate Ed iscrivetevi Al canale Qua da Rigo È tutto Bella ragazzi Grazie a te